Online Eh adesso vado online Ok adesso dovrei Ok dovrei essere online adesso No, non sei online Aspetta un attimo Provo a riaggiornare adesso Ma come? A me mi dice che sta andando Stai guardando sticks o overwatch? No Ma si che sta andando No a me non sta andando No io non lo vedo Passami il link Adonale Adonale Que si che sta andando vai bello ho corso al derli e ho corso in quella direzione sono pide scimmie devi giocare di Silvio Sergio io sto giocando Silvio Sergio senza musica sei un po' una persona triste no? sei un po' una persona triste questo che stia iniziando? preparati per attaccare selezza il tuo ero che storia è questa? no no facciamo doppio hit scan vado anche farlo ah va bene due meglio di uno attaccare 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 perché trovo attaccare 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 destupri la gente il vostro lumino è di scala la stupla gente I'm taking the point. Don't worry, I've got this. I'm claiming this objective. Tactical necessity. Sicurio objective. Come here and get stabilized. Come here and get us. Your friend will do it. Rest in peace. Come here. Check me out. Time to heal up. Get right up. Take the point. Don't worry, I've got this. Sì 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 I AM LOVIN' THIS! Healing boost! I just keep healing here. Nanoboost is ready to deploy. My ultimate is on the break! No! Neat healing! I am unstoppable! Wagateki wo kurao! Snipera! Eeeh! Eeeh! Dablus! Eeeh! Heldensheden nicht! Heldensheden nicht! Haltensheden nicht! No rest for the weary. Merci à Kau! Why Tracers? Quanto si hai loot? Depende quanto si hai loot Cosa? Cosa? ma porno dio Grazie a tutti 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 I'll pocket you Grazie a tutti 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 di che parli? a parte che tu mi hai bustato io ho lanciato il map lo stavo già lanciando no in realtà quando ti bustavo no mi hai lanciato adesso ho tipo un secondo prima cioè stavo nello stesso istante si però dopo non curandomi più non hanno bustandomi più l'hai portata a perdere la partita ho bustato un rado senza ultimo non ho bustato un rado con l'ultima quando avessi fatto insegnante per la sua no 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 non no no Sì, se trovi luce veramente buon Contestrike Ho riperdito Ho riperdito Ho riperdito Ho riperdito Ho riperdito Non sono così, non c'è un calcio di soldi Vai andare il soldi Sì, adesso l'ho ucciso, lui va babysitato, no? Sì, adesso l'ho ucciso, lui va babysitato. Vabbè, si è persa anche questa, e vai, tutta è persa la mia fila, vado a perdere a Contestrike Mane. Sì, adesso l'ho ucciso, vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè Grazie a tutti 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 No 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti